Oggi noi troviamo fronte sempre delle stesse associazioni, noi lavoratori immigrati a noi mettono conto italiani. E questo non solo da un giorno sta succedendo, non mantenere questa situazione e non siamo contro di questa politica del organo delle polizie, organo delle forze. Noi è venuto questo quartiere, è intervenuto sul richiamo della comunità perché abbiamo saputo, due giorni fa è stato aggredito il nostro connazionale. Questo è un fatto del quartiere Maliana, che esiste un gruppo di ragazzi che da diversi anni stanno aggredendo dei ragazzi extracomunitari, e in particolarmente della comunità Bangladesh, che questo quartiere è abbastanza popolare. Noi abbiamo registrato oltre cinquantina di episodi piccoli che è stato fermato i ragazzi, da 3, 4, 5 ragazzi per strada, e hanno derubato il portafoglio, hanno portato via cellulare e hanno malmenato. E' stato anche varie volte denunciato questo costura o carabinieri, ma non sono avuto successo. Questa volta è stata un'aggressione presso questo negozio di piccolo ristorante fast food, e quale è stato una quindicina di ragazzi entrato dentro con bastone e ferri puni a mano, e hanno devastato il terra locale e hanno malmenato anche il personale e compresa i clienti che erano dentro.